Oh, che bello! Mi piace, sì! È ora di fare un tuffo rinfrescante proprio qui nella piscina! Eh? Ok, ancora un attimo! Bene, andiamo! Oh, che bello acqua! Mi piace! Aiutiamo Betty a rinfrescarsi? Ah! Com'è l'acqua, Betty? Oh, no! Dobbiamo rendere il suo bagno ancora più indimenticabile! I sono sceltissimi vanno proprio qui! Ah, che schifo! Ecco, l'avete voluto voi! Sfila! Prego, prego, voglio aver fortuna! Uh, che peccato! Betty, non sei da invidiare! Sto male! Guarda! Adesso vedrai! Ah, che incubo! Che odore terribile, no! Va bene! Non c'è niente da fare! Uno, due, tre, vado! Oh, no! È così cattivo questo pesce! Ah, Betty, non sei da invidiare! Questo pesce schifoso anche nei capelli, va! Cosa? Insetti? Ah! Aiuto! Aiuto! No! Sono ovunque! Che schifo! Che schifo! Che avventura, però! Ma questo cattivo odore è dappertutto! Forse... Forse... Vabbè! Salto questo giuro di sfida, eh? Va bene, va bene! Cosa? Mmm... Cosa è successo a Jess? Wow! Ah, sempre fortunato, Jess! Non ci crederai mai! Oh! Ah, non aspetto disgustoso! No, che schifo! Bleh! Ok, sono pronta! Mi tuffo! Ah! Cosa? Che schifezza, uova! Io ho delle uova! No, sto male! Sembra molto disgustosa! Ma guarda un po'! Quanto sono abiccicosi e disgustosi! No, che schifo! E qualcuno ha avuto sfortuna con la piscina? Sì, Jess! E avrei saputo vedere la tua faccia! Meglio questo! Ecco! Ah! Vabbè! Bene! Sono arrabbiata! Molto arrabbiata! Ah! Spero di essere affrontato questa volta! Dai, per favore! Mmm... Un giorno sfortunato per Jess! Povera, povera, Jess! Ok! Che acqua fredda! La mia mano! Non sento più la mia mano! Ok, vabbè, ce la do mano! Ma poi cosa succederà, Jess? Ok, sono pronta? Sono assolutamente pronta! Oh, no! Fa così freddo! Io non mi sento più in piedi! Oh, dobbiamo salvare Jess adesso! Su, dai! Dai, prendiamolo! Su, trascina! Su! Oh, che pesante che è! Proprio come una statua di ghiaccio! Oh, sì! È pesantissimo! Dai, su! Cosa c'è? Cosa c'è? Oh, che fortunata che è, Emma! E perché noi non lo siamo, Alessi? Wow! I pop corn! Che bello! È delizioso! È così buono! Quindi io mi tuffo! Uno, due, tre... Vai! Wow! Fantastico! Una terapiscina di pop corn! Che bello! È così buono! È delizioso! Voglio mangiarlo! Tutto quanto! Anche noi lo vogliamo mangiare! Perché mi state a guardare così? Volate il pop corn? Sì? È così croccante! È così buona! Sì! Che ne dà rompo? Ecco! Mio, mio! Ah, che male! Allora, cosa ho io questa volta? Non male! Sì, una fasca piena di Coca-Cola! Abbiamo già le tazze pronte e aspettiamo la degustazione! Bene, bene, allora... Uno, due, tre... Vado! Yuhuu! Sì, direttamente è proprio qui! Grande! Forza, Jess! Andiamo a fare il pieno! Ecco fatto! Ah, niente, Coca-Cola! Dov'è finita la Coca-Cola? Noi non lo sappiamo, Emma! È così buona! Mi piace! Sì, è molto rifrescante! Va bene! Bene, bene! E io? Anch'io volevo bere la Coca-Cola! Cosa c'è questa volta? Forza, vediamo! Grande! Palline di cioccolato andesco! Buona! Sarà sicuramente interessante! Ah, che aspetto delizioso! Eh, non vedo l'ora di provarli! E tu? Sì, forza, Emma! Buttati! Vabbè, cosa mi aspetta là? Uno, due, tre... Va bene, vado! Uh! Sì, le palline di cioccolato! Bene, ma cosa faccio qui dentro? Aspetta! Ma voi cosa fate là? Mangiate? Sì, è molto buono! Ci piace! Eh, ma piace a tutti! Vabbè! Anch'io... Aspetta! Ma io ho un cucchiaio! Ma molto più grande! Eh, mangiamo! Uh, che delizie! Mi piace! Spero di essere perdonata questa volta! Che sorpresa! È molto insolto! Questo è certo! Sarà divertente! Ok, allora... Cosa c'è là? Mi chiedo! Vabbè, non lo so, però devo andare! Quindi... Uno, due, tre... Eh, vado! È così morbido! Mm, ben fatto, Jess! Ce l'hai fatta! Uh! Cosa c'è di meglio che fare un bagno nella carta igienica? Eh, ma... Non è fantastica, ascolta! Sì, davvero fantastica! Avrei bisogno di una grande condizione di hotel! Eh, la mettiamo così sulla carta igienica! Bene, bene, grande! Andiamo... Sì, Jess! Prendi un regalo! Ti piacerà, sicuramente! Oh, che carta morbida! Oh! Cos'è? No! Che schifo! No! Presto! No! Via! Ah! Hai visto la sua faccia? Che ridere! Fatti cinque! Eh, sì! È un successo! Spero di essere fortunata! Uh, Betsy, guarda! Cos'è, Jess? Eh, cosa? Che bello! Ma perfetto! Ecco fatto! Vabbè, vado! Uno, due, tre! Vai! Ah! Cosa c'è qui? Un'uscina! Ah, Jess! Si sembra morbida! Ragazze, non siete gelose! Io me ne vado! Così! Ciao! Si è piaciuta la nostra sfida? Allora clicca sulla campanella per non perdere le avventure dei nostri personaggi preferiti! Ne arriveranno molte altre! E scrivete nei commenti in quale piscina vorreste cadere! Ci bisiamo! Ciao, ciao! Ciao!